Lui è Francisco Vera, 11 anni della Colombia, è un piccolo ambientalista, raccoglie rifiuti fuori dalla scuola e sui social dà consigli ai coetanei su come rispettare l'ambiente. Ha chiesto al governo di rafforzare la rente internet per la didattica a distanza, per tutta risposta è stato minacciato a morte sui social, voglio scuoiarti, voglio vederti morire.